Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Nel video di oggi parliamo di dieci congiunzioni che sono sempre seguite dal congiuntivo, quindi con queste congiunzioni non avete scelta sul modo verbale da utilizzare dopo. Tutte queste congiunzioni introducono delle frasi subordinate che hanno un verbo coniugato al modo congiuntivo. Le congiunzioni che ho scelto per questo video sono quelle più utilizzate, quindi le sentirete nella lingua parlata, in tv, le leggerete nei libri, eccetera. Vediamo prima quali sono queste congiunzioni e poi le vedremo una ad una nel dettaglio. Le congiunzioni che vedremo oggi insieme sono perché, a patto che, qualora, affinché, nonostante, sebbene, benché, come se, senza che, prima che. Alcune sono accompagnate da che. Vediamo il primo gruppo. Purchè, a patto che e qualora introducono una frase che esprime un'eventualità o una condizione. Vediamo alcuni esempi con queste tre congiunzioni. Ti aiuto con i compiti a patto che tu pulisca la tua stanza. Ti presto i soldi che ti servono purché tu me li restituisca al più presto. Questo è il mio numero di telefono qualora ne avessi bisogno. Quindi vedete che queste tre congiunzioni introducono delle frasi subordinate che esprimono una condizione, un'eventualità. Poi abbiamo affinché. Affinché introduce una frase subordinata che esprime lo scopo dell'azione, dell'azione principale. Un esempio è ti ho mandato un'email affinché tu sappia cosa è successo ieri. Quindi lo scopo del mio mandare l'email a te è quello di farti sapere che cosa è successo ieri. Al posto di affinché a volte si può anche usare perché. Sappiamo che perché ha due significati, un significato causale e un significato finale. In questo caso ha un significato finale. Quando è seguito dal congiuntivo. Poi abbiamo il gruppo di nonostante, sebbene, benché. Queste tre congiunzioni introducono una frase che esprime un contrasto con quanto detto prima o dopo. Dipende dalla posizione nella frase della congiunzione. Vediamo alcuni esempi. Nonostante loro abbiano studiato, non si sentono pronti per l'esame. Sebbene oggi il sole splenda in cielo, fa abbastanza freddo. Possiamo anche dire benché oggi il sole splenda in cielo, fa abbastanza freddo. Oppure benché loro abbiano studiato, non si sentono pronti per l'esame. Poi abbiamo come se, che introduce una frase che esprime un modo. Ad esempio, mi parla come se fossi sua figlia. Quindi mi parla nel modo in cui parlerebbe a sua figlia. Poi abbiamo senza che. Senza che introduce una frase che esprime una mancanza. Appunto, senza, manca qualcosa. Ad esempio, se ne è andato senza che io potessi salutarlo. Quindi lui è andato via e io non l'ho salutato. L'ultima congiunzione di oggi è prima che. Introduce una frase che dà un'indicazione di tempo, ma questa indicazione di tempo non è definita. Quindi è un'indicazione di tempo indefinita. Vediamo degli esempi. Esco dall'ufficio prima che cominci a piovere. Io non so quando esattamente comincerà a piovere, però io esco prima che cominci. È una sorta di precauzione da parte mia. Inizierà a piovere presto, ma non so esattamente quando. È per questo che usiamo il congiuntivo, perché c'è incertezza. Un altro esempio è Prima che tu dica qualcosa, fammi spiegare. Quindi io non so quando esattamente tu dirai qualcosa, però io ti precedo e comincio a spiegare. Bene, ho finito qui la spiegazione, ma adesso rileggiamo insieme tutti gli esempi che vi ho fatto in questo video. Ti aiuto con i compiti a patto che poi tu pulisca la tua stanza. Ti presto i soldi che ti servono, purché tu me li restituisca al più presto. Questo è il mio numero di telefono, qualora ne avessi bisogno. Ti ho mandato un'email affinché tu sappia cosa è successo ieri. Nonostante loro abbiano studiato, non si sentono pronti per l'esame. Sebbene, benché, oggi il sole splenda in cielo, fa abbastanza freddo. Mi parla come se io fossi sua figlia. Se ne è andato senza che potessi salutarlo. Esco dall'ufficio prima che cominci a piovere. Prima che tu dica qualcosa, fammi spiegare. Questo è tutto per oggi, se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao! Ciao! Ciao!